benvenuto nel mio canale di cucina la ricetta che voglio proporvi oggi è velocissima e buonissima di cosa si tratta? degli squisiti porperoni cotti al forno con del formaggio filante vediamo gli ingredienti due pomodori ramati che andrete a tagliare a dadini dopodiché aggiungete un pizzico di sale due spicchi d'aglio sminuzzati coltello un cucchiaio di olio e mescolate il tutto poi serviranno due peperoni che andrete a tagliare a metà poi riempite i peperoni con i pomodori che avete recentemente tagliato da dino ora grattugiate 130 grammi di fontina e farciti i peperoni è sicuro che saranno deliziosi e filanti buonissimi aggiungete un goccio di vino bianco e 2-3 cucchiai di olio e poi cuocetele a forno caldo statico a 180 gradi per 30-35 minuti trascorso il tempo di cottura ed ecco i peperoni appena spornati vi aspetto alla mia prossima video ricetta ciao ciao e a presto da Gian ciao 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 Grazie a tutti.